Benvenuti nel mondo degli orologi Union Glassut. Union Glassut è un marchio di orologi di lusso tedesco che nasce nel 1893, con l'obiettivo di produrre orologi di alta qualità a prezzi accessibili. Da allora, il marchio si è distinto per la sua attenzione alla precisione e alla qualità artigianale nella produzione dei suoi orologi. Nel 1936 l'Union Glassut viene cancellata dal registro delle imprese tedesco. Il 13 agosto 1996 la Union Glassut è stata rifondata come filiale di Glassut Original. Nel 2000 la Swiss Swatch Group AG rileva la Union Glassut. Nel 2008 la direzione dello Swatch Group ha deciso di gestire le due società separatamente. Oggi, Union Glassut produce orologi di lusso per uomini e donne, che si distinguono per il loro design elegante e raffinato e per la loro precisione e affidabilità. Tra le collezioni più famose di Union Glassut ci sono la Belisa, la Noramis, la Zeris, la Viro e la 1893. La collezione Belisa è costituita da modelli versatili che si rivolgono a qualsiasi individualista con uno stile di vita attivo. Che siano straordinariamente dinamici, classicamente eleganti o dal carattere retro, questi orologi sono sportivi. La collezione Noramis combina l'eleganza classica senza tempo degli anni 50 e 60 con il design e la tecnologia moderni. La collezione Zeris si distingue per la sua eleganza sportiva. La collezione Zeris è la compagna perfetta per la donna moderna. Presenta un quadrante dal design eccezionale e dettagli finemente coordinati, come le lancette curve a forma di spada, colmano il divario tra il classico e il moderno. Infine, la collezione 1893 presenta un design ispirato ai modelli storici di Union Glassut e combina le tecniche orologere di Glassut tramandate da generazioni con sviluppi all'avanguardia. Questa collezione comprende calibri a carica manuale, un sistema a molla del bilanciere in silicio e un sistema di regolazione senza indici. Gli orologi Union Glassut sono apprezzati da appassionati di orologeria di tutto il mondo per la loro qualità artigianale e la loro precisione. Il marchio tedesco produce orologi con movimenti al cronometro, che garantiscono una precisione superiore rispetto ai movimenti tradizionali, e utilizza materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile e l'oro. La precisione degli orologi Union Glassut è stata riconosciuta a livello internazionale, con numerosi riconoscimenti e premi per la qualità dei suoi movimenti al cronometro. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso che unisca design elegante e raffinato a una precisione senza pari, Union Glassut è sicuramente il marchio giusto per te.